E dai, perché morresti qualche altro giorno? Eh no, non posso, ho il conto rosso. Mi è venuta un'idea. Con Vodafone Smart Pass puoi ricaricare e trasferire denaro, prelevare contante da tutti gli sportelli banco, ma te usarla in tutti i punti vendita Mastercard e carta sì. Puoi ricaricarla nei Vodafone Store, controllare sempre i tuoi movimenti e il saldo disponibile con la mobile app dedicata. Vi state divertendo? Tuo padre? La nostra vita quotidiana, semplice, comoda, pratica, in una parola, smile. Dai! Come no?